L'ultima parte è un pochino più operativa, l'idea è raccontarvi come altre aziende, aziende che operano PMI, che operano nel mondo sia della manifattura come questa, in questo caso un'azienda che si occupa della produzione di elettronica custom per la manifattura e sistemi IoT, sia, vedremo più avanti, un esempio anche di un'azienda che si occupa di consulenza in ambito strategico nel mondo operation, come che cosa hanno ottenuto grazie all'implementazione di un CRM evoluto come Amspot. Quindi, in questo caso, partiamo dal punto di partenza, il punto di partenza dell'azienda qual era? Loro volevano aumentare l'esposizione del brand, quindi la visibilità del brand rispetto a dei mercati obiettivo e rispetto a dei settori specifici, e aumentare anche un pochino l'interesse dei loro prodotti, dei loro servizi, dei confronti di target specifici. All'epoca non avevano la capacità di capire da dove venivano i contatti che magari si profilavano sul sito e avevano un sito che in quel momento lì non riusciva a profilare in maniera efficace, quindi la maggior parte del traffico che entrava nel sito poi si disperdeva e nessuno aveva tracce e contezza della qualità e della quantità di persone che stavano entrando e che erano interessate ai loro servizi, e in più avevano notato che il loro ciclo di vendita era molto lungo, quindi se incontravano un contatto in una fiera, ad esempio SPS, lo trovano spesso SPS, e il contatto poteva avviare una collaborazione con l'azienda anche dopo un anno, un anno e mezzo, e nel frattempo, nel mentre, in questo lasso di tempo, l'azienda, quindi nessuno, cercava di ringaggiare il contatto nel tempo per capire se nel frattempo appunto aveva maturato o sviluppato un interesse specifico nel confronto dell'offerta dell'azienda. Quindi queste erano le macro esigenze che avevano, non stavano tracciando inoltre nessun tipo di iterazione che avveniva tra il brand e l'azienda, banalmente, non capivano se mandando una mail questa veniva aperta, veniva cliccata, veniva vista, non sapevano se il cliente, l'utente, tornava magari sul sito per scaricare una case history, per leggere magari un approfondimento del blog, e quindi non capivano quale fosse l'interesse che la controparte, quindi l'utente, aveva nei confronti dei contenuti che l'azienda aveva prodotto e pubblicato. Inoltre, ogni commerciale all'interno dell'azienda aveva il proprio elenco di offerte su file Excel, come abbiamo visto prima, che aveva condiviso, e ogni commerciale faceva vita a sé, aveva il suo piccolo feudo di offerte ritrattative in corso, e queste informazioni non erano condivise all'interno del team commerciale, quindi magari alcuni approcci, anche vincenti, che poteva avere qualcuno, non venivano condivisi con altri membri del team commerciale, e questo comportava sempre anche un'inefficienza all'interno del processo commerciale. Da qui abbiamo implementato AppSpot, abbiamo rifatto il sito, ma di fatto abbiamo implementato AppSpot nel tempo, il primo vantaggio che loro hanno ottenuto è che è stato possibile aggregare tutti i monitor delle performance dei vari canali. Fino a prima loro dovevano andare su Google Analytics per vedere le performance del sito, su Meta Analytics per vedere le performance dei canali Sony, i canali Meta, piuttosto che su LinkedIn per vedere le performance dei LinkedIn, su MailChimp, sui canali di invio di newsletter, per vedere le performance dell'invio della newsletter, e quindi usavano tanti canali, giustamente, ma nessun canale era integrato con gli altri, per cui tutte le analitiche erano disperse all'interno dei vari canali, con una grandissima difficoltà di capire se il canale funzionava, quindi stava performando sia in ottica di visibilità, come aveva detto, sia in ottica di generazione di contatti, e quindi senza nessuna capacità di migliorare, anche di ottimizzare le performance di campagne o di attività, diciamo, di marketing. Quindi, grazie all'implementazione di una piattaforma che ha permesso di aggregare, di gestire, all'interno della stessa piattaforma di AppSpot, tutti i canali, quindi non solo gestione, ma anche monitoraggio. La prima banalità è capire quante sessioni io creo sul sito, quanti contatti, qual è il tasso di conversione. L'obiettivo, poi, su cui abbiamo lavorato è migliorare il tasso di conversione, quindi agendo su usabilità, sul, diciamo, il percorso che fa l'utente nel sito, l'obiettivo era misurare un dato che però aveva un punto di partenza e un obiettivo, quindi era concreto e misurabile nel tempo. Siamo stati in grado, insieme a loro, di capire quali erano i canali che producevano dei lead. I numeri che vedete, che vedete sottolineanti, sono proprio il numero di contatti che, nell'unità di tempo, si sono, hanno convertito attraverso, sul sito. E vedete la provenienza dei contatti, quindi abbiamo capito se l'attività organica, quindi di licitazione del sito, di produzione di contenuti, e quindi della SEO del sito, era efficace o era da migliorare. Se le attività, le campagne sponsorizzate stavano lavorando in maniera ottimale o se potevano essere migliorate. Adesso, oggi non l'abbiamo messo, perché sarebbe un approfondimento molto spinto, ma cliccando sul numero, io atterro sulle persone, quindi un nome e cognome, quindi le persone che sono profilate nel tempo. Abbiamo introdotto all'interno dell'azienda un momento in cui il marketing chiede al mondo commerciale se la qualità dei contatti che nel tempo si sono convertiti attraverso il sito fosse stata giusta, fosse stata corretta. Era in linea con le aspettative e con il target a cui i commerciali volevano appunto dialogare, volevano creare una connessione commerciale. Quindi l'azienda oggi riesce a vedere se i canali attraverso i quali genero contatti funzionano e riesce a capire se la qualità dei contatti creati è in linea rispetto alle aspettative. Altro passo avanti che abbiamo fatto è stato quello di introdurre la logica di campagna per ogni evento a cui l'azienda partecipa, che sia una fiera, in questo caso SPS, che sia un webinar, qual è l'obiettivo? Generare dei contatti che dimostrano un certo tipo di interesse, che possano avere anche una necessità specifica che possa essere gestita da parte dell'azienda. È un'attività che non si conclude con l'evento. Sappiamo tutti che se oggi io partecipo a una fiera, non concludo un nuovo business oggi stesso, ma incontro persone che devo mantenere ingaggiate nel tempo, che quando avranno una loro necessità specifica dovranno sapere che io posso gestire questa necessità specifica e quindi magari diventeranno clienti. Questo iter può durare un mese, come siccome può durare, come dicevo prima, un anno, un anno e mezzo. Creare delle campagne che racchiudono all'interno del loro perimetro tutte le attività che nascono o sono figlie di un evento specifico, come può essere una fiera o può essere un webinar, ci permette di monitorare qual è il ritorno sull'investimento nel breve, nel medio e nel lungo periodo di quell'evento. Quindi io so che ho generato un nuovo cliente che avevo conosciuto alla fiera dell'anno scorso, che ha partecipato magari a qualche webinar che io ho fatto all'interno del corso dell'anno, ma che alla fine si è convertito perché avevo un'esistenza specifica e che mi ha ovviamente condiviso e che io sono riuscito a dare un seguito. Quindi riuscire a ottenere anche il ritorno sull'investimento di denari che spendiamo per organizzare eventi permette all'azienda di capire quali funzionano ancora una volta e quali invece sono meno performanti. Come vi dicevo prima, siamo riusciti a automatizzare alcuni format specifici che permettono all'azienda di risparmiare tempo quando devono affrontare un nuovo webinar, in questo caso, o una nuova fiera, perché le attività di marketing sono definite, sono codificate e sono anche rese più efficienti all'interno del perimetro dell'evento. Quell'unica cosa che cambia è il tema. Quindi faccio un webinar il giorno 1, lancio il workflow un mese prima, che quindi è una sequenza, che individua una sequenza di mail più o meno automatiche, faccio il webinar dopo due mesi, ho lo stesso format, ovviamente cambierà il tema dell'evento. In questo modo non solo si riesce a risparmiare tempo delle risorse, ma si riesce anche a misurare in maniera puntuale eventuali inefficienza all'interno del processo per poterle migliorare nel tempo. La condivisione delle informazioni, e quindi questo secondo me è il grande vantaggio anche di avere un CRM, come diciamo che è evoluto, permette al commerciale, quando parla con un prospect, quindi con una persona che non conosce, che non conosce perché magari si è profilata attraverso il sito o attraverso i canali social, di avere delle informazioni prima ancora di iniziare a profilare, quindi iniziare a parlare con il nostro interlocutore, con il prospect. Quindi avere la capacità di monitorare, di avere il nome, il cognome, la mail, il ruolo, l'azienda in cui lavora il prospect e a che cosa è interessato, perché magari lui si è profilato all'interno di una pagina specifica del nostro sito che parlava di un servizio particolare o ha scaricato un documento che parla di, ancora una volta, un prodotto o un servizio specifico. Ci permette di avere delle informazioni che sono molto utili per poter creare la prima relazione con il cliente, oppure poter approfondire alcune tematiche che possiamo risolvere, altre che esistono, che abbiamo risolto in quel settore. Avere queste informazioni per un commerciale, secondo me, è molto prezioso perché permette di partire con un po' più di grip, dico io, nei confronti del contatto, per poi costruire una relazione e vedere come lui o come lei evolvono nel tempo. Quindi se dopo un nostro primo contatto la persona torna sul sito, si guarda i nostri servizi, noi mandiamo una mail che viene aperta o che viene magari cliccata. Da lì la capacità di misurare questo tipo di interazione ci permette di capire qual è la temperatura, quanto è interessato o interessata all'offerta o alla proposta che noi abbiamo fatto nel tempo. Quello che accade molto spesso anche è che magari io ho un primo momento dove di accelerazione, il mio prospect è interessato e quindi mi segue, poi accade qualcosa che blocca, diciamo, la trattativa commerciale. Vuoi perché il budget in quel momento lì non era allocato, vuoi perché sono emerse altre priorità all'interno, diciamo, nella sfera del nostro prospect, questa cosa si blocca. Dopo sei mesi però magicamente riparte perché vediamo, possiamo notare che il prospect ritorna sul nostro sito, riapre una mail che avevamo mandato, quindi rinizia, riparte dall'ingaggio che aveva sospeso. Se noi intercettiamo con l'informazione, diciamo che è un valore aggiunto e utile perché possiamo cercare di reintercettare il nostro prospect e riprendere la relazione dove va lasciata. Per lui o per lei sarà una sorta di magia, per noi è tecnologia, dati che gestiamo in maniera strategica per poter riprendere una negoziazione commerciale con un prospect che si è raffrizzato. Come dicevo prima, sapendo quali sono i canali che performano e sapendo anche quanti sono e quali sono, diciamo, i lead, quindi i contatti che noi abbiamo approfondito nel tempo, ci permette di tracciare qual è il tasso di conversione che abbiamo lungo tutta la nostra catena di trasformazione di un utente, di un prospect sconosciuto a cliente. E quindi ci permette di capire dove sono anche eventuali colli di bottiglia o dove sono eventuali possibilità di miglioramento delle conversioni. Quindi avere la visibilità su quali sono i contatti che io gestisco nel tempo, quanti sono quelli che riesco a profilare nel tempo, in modo di pianificare anche la crescita o le attività sia del team marketing che del team commerciale. Infine quello che abbiamo condiviso con l'azienda è il processo commerciale, cioè ogni, come dicevo prima, siamo partiti, quando siamo partiti la situazione che abbiamo trovato era ogni commerciale aveva le sue modalità di gestione delle negoziazioni e ognuno era diverso dall'altro, quello che abbiamo cercato di fare è trovare un fil rouge, trovare un minimo comune denominatore che permettesse all'azienda di codificare il processo commerciale, così da uniformare anche tutti i vari step e capire dove magari un'attività che faceva un commerciale poteva essere di sostegno a un altro per potersi aiutare vicendevolmente. Abbiamo creato quindi quella che si dice pipeline, si chiama pipeline commerciale, che i commerciali hanno iniziato a popolare con le varie negoziazioni, con le opportunità che via via avevano maturato. Questo ha permesso di misurare le performance, ovviamente, individuare quali potessero essere i momenti in cui la trattativa si bloccava e perché si bloccava e quindi intervenire in maniera chirurgica su alcuni pezzi del processo. Quello che abbiamo ottenuto anche è un dialogo comune, un vocabolario comune all'interno del team commerciale perché ogni volta che ci sono, accadono anche oggi in azienda degli sprint commerciali, tutti guardano gli stessi dati, tutti guardano la stessa modalità di rappresentazione anche delle informazioni, le informazioni sono condivise e quindi emergono punti di criticità che vanno gestiti, così come emergono anche delle opportunità che possono essere gestite. Spesso in questi sprint commerciali vengono invitati, viene invitato anche il team marketing proprio per condividere, diciamo, le esigenze che ha il mondo commerciale per capire come il marketing può essere di supporto al mondo commerciale per velocizzare o per migliorare le performance. Da queste riunioni esce sempre, emerge sempre una to-do list che poi è basata su dati concreti, negoziazioni concrete e attività specifiche che oltre in marketing, oltre in commerciale, deve poter fare.